Ed eccoci qui cari amici di Infriti Games e bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, ho intenzione di fare questo video per tutti coloro che magari da una parte non conoscono ancora queste due piattaforme e da una parte invece che magari dimenticano cosa possono offrire queste due piattaforme. Parliamo dell'app di Xbox per PC e appunto l'Epic Games Store, ok? O Epic Games in generale, fate voi. Quindi, ragazzi, perché ho deciso di portare questo video? Allora ragazzi, innanzitutto perché ho fatto un po' il resoconto degli ultimi mesi, dei titoli che sono usciti e devo dire ragazzi che purtroppo non sono usciti poi così tanti titoli di AAA. La colpa ovviamente non è di nessuno, ma di sicuro in prima linea ci sta il Covid-19. Per avere, ecco, quelli che sono invece considerati AAA e quindi grandi giocuni, no? Che noi aspettiamo vivamente sui nostri schermi, ragazzi, è ovvio che dovremmo aspettare settembre, ottobre, novembre addirittura arrivare sotto Natale. E parliamo, facciamo un paio di esempi, giusto così, eh? Tipo Cyberpunk, tipo Assassin's Creed Valhalla, insomma. Ma ce ne sono tanti che stiamo aspettando con ansia. Però, ovviamente, ragazzi, non è che non è uscito un cavolo in questo periodo. Anzi, è uscito Desperato Stray, la trilogia di Mafia, Beyond's Blue. Adesso non ricordo tutti, però sono usciti anche dei giochi importanti. Ma non sono tanti, non sono molti. Quindi, perché questo video? Per ricordarvi, ragazzi, che fortunatamente abbiamo da una parte Xbox, o meglio, l'app di Xbox, che, ragazzi, sto parlando per PC, eh? Attenzione, quindi non fate confusione con console. Anche se l'abbonamento Xbox, ovviamente, c'è anche per la console Xbox. Ma io adesso sto parlando esclusivamente di ciò che potete fare su PC, ok? Quindi, questa app, che adesso andiamo a vedere insieme, ed eccola qui, è appunto un'app di Game Pass, l'Xbox, dove è possibile, con un piccolo abbonamento, ragazzi, ma davvero piccolo. Cioè, parliamo di una cifra così, evisoria. Parliamo di 3,99€ al mese di un abbonamento davvero importante, perché ci offre tanti giochi, ragazzi, più di 100 giochi, che vengono aggiornati poi continuamente. Cioè, non è che abbiamo questi giochi e questi giochi possiamo giocare. No, vedremo nel corso del tempo, mese dopo mese, che vengono aggiunti sempre di più nuovi giochi, ok? Gli ultimi di questo abbonamento che io ho ricevuto sono questi qua, che vedete qui. Ma non sono solo questi, ovviamente, ragazzi. Mica potete giocare solo a quei titoli che vi vengono inseriti all'ultimo momento, no? È ovvio che basta andare qui su tutti i giochi e vedete tutti i giochi che vi danno a disposizione. E quelli che state vedendo, ragazzi, sono completamente, per quanto mi riguarda, gratis. Perché? Perché 3,99 euro al mese per tutti questi giochi, ragazzi, davvero un cavolo di niente. Ok? Quindi, ve lo consiglio vivamente, ragazzi, perché non si preoccupa di lanciare, di darvi gratis, anche gli ultimi giochi, gli ultimi titoli usciti. Per l'amor di Dio, assolutamente no. Quando c'è un titolo nuovo, loro lo inseriscono sempre. E devo dire che ormai è da molto, molto tempo, parecchi mesi, che ho questo abbonamento e mi sto trovando veramente benissimo, ragazzi. Quindi io ve lo consiglio. Ovviamente, vi ripeto, dovete creare un account, scaricare l'app, e andare poi sul sito ufficiale dell'Xbox Game Pass per poter acquistare questo abbonamento, dove pagherete un solo euro il primo mese. Ok? Quindi un euro il primo mese. Dopodiché, con, dal secondo mese, quindi da quello successivo, pagherete 3,99 euro. Ragazzi, fidatevi, conviene. Conviene perché comunque, adesso ci troviamo un po' in un periodo di stallo, no? Quindi, magari potete fare tantissimi titoli, potete divertirvi davvero come volete, e ve lo consiglio. Questo è per quanto riguarda, appunto, l'Xbox Game Pass. Ragazzi, ma c'è un'altra piattaforma che ultimamente ti sta facendo godere proprio tanto. Ok? È ovvio che parlo dell'Epic Games. E beh, ragazzi, l'Epic Games sta facendo un lavoro veramente magistrale in questo periodo. Ma, parliamoci chiaro, non solo per quanto riguarda i giochi gratuiti che ci dà ogni settimana, ragazzi, no, ogni mese. Cioè, ci regala giochi ogni settimana. È vero che l'80% dei giochi non sono dei grandi titoli, ma è ovvio, ragazzi. Cioè, non vi possono mettere gli ultimi titoli. Questo mi sembra anche ovvio. Addirittura gratuiti, senza abbonamento, no. Però, ragazzi, ci ha sorpreso tantissime volte, Epic Games, perché tantissime volte li siamo ritrovati davanti a dei giochi gratuiti che per una settimana avevamo la possibilità di scaricare e di ottenerle gratuitamente, ed erano gioconi. Ragazzi, basta pensare ai 4, 4 o 5, 5 giochi misteriosi che sono usciti, no, nell'ultime settimane. Io ho fatto tantissimi video anche su, parliamo di GTA V, Borderlands, insomma, ragazzi, sono usciti davvero tantissimi titoli. L'ultimo, infatti, è stato ARK, ARK, ARK Survival, che, lasciamo stare dei piccoli problemi che ci sono stati, ma sembra che siano stati risolti, fortunatamente. Però, vedete, è comunque una piattaforma che cerca sempre di più di tenere inchiodati i propri, come devo dire, i propri utenti. E questa cosa è una genialata. Ad esempio, adesso abbiamo gratis fino al 25 giugno Patchway, ma poi arriveranno, ragazzi, il 25 giugno fino al 2 luglio, quindi da 25 al 2 luglio è possibile scaricare questi altri due titoli che vediamo qua, ok? Ma addirittura, se io vado su Visualizza di più, ci sono altri giochi gratis come questi due e poi tantissimi altri titoli che voi potete giocare tranquillamente senza ottenerli, scaricarli e quant'altro. Basta cliccarci sopra, appunto, e giocherete a questi titoli. Ragazzi, è importante, comunque, secondo me, avere, ecco, queste iniziative da parte di queste piattaforme che vengono incontro anche a noi, perché parliamoci chiaro, ragazzi, non tutti hanno la possibilità ogni volta che esce un gioco prendi compra, prendi compra, prendi compra, e no, cioè c'è uno stipendio qua. Quindi è ovvio che nell'attesa, ecco, perché, per esempio, anche io, quelli che proprio ho intenzione di giocarci subito, ma soprattutto per il canale, è vero che li vado ad acquistare pure a 30-40 euro, ho parlato tanto del sito Instant Gaming o tanti altri siti magari che a cui dovevi acquistare giochi, o magari degli sconti sulle stesse piattaforme ufficiali, ma è ovvio che lì dove vedo che il prezzo è altissimo, tipo io con Red Dead Redemption ho aspettato 3-4 mesi, ok, ho aspettato che il prezzo calasse un attimino, perché altrimenti, insomma, non ricordo neanche quanti altri titoli avevo comprato in quel periodo, cioè mi facevo proprio male a livello economico. Quindi nell'attesa io avevo la possibilità di poter giocare ad altri titoli un po' in maniera gratuita grazie a Epic Games, un po' grazie all'abbonamento di 3,99 euro dall'altra parte dell'Xbox Game Pass. Quindi ragazzi, ecco, quello che vi sto cercando di dire è che possiamo trovare il giusto equilibrio tra l'attesa, magari che aspettiamo un gioco che venga scontato ulteriormente, o magari l'attesa di un titolo che ancora deve uscire, ok? E quante volte? Adesso sto aspettando Cyberpunk e Assassin's Creed, cioè, se mi metto a aspettare e chiudo il computer mi devo solo impiccare, no? È chiaro che mi ci metto qui e posso fare tantissimi altri giochini, ma senza nessun problema. Quindi, il consiglio che vi do è di tenere d'occhio sempre, ma sempre, queste due piattaforme. Voglio aprire e chiudere parentesi perché non voglio dilungarmi più di tanto. Ragazzi, a me è dispiaciuto tanto che all'inizio del mio canale io ho portato, ma veramente ho portato in maniera anche, ecco, ero contento di portare quei video. Per quanto riguarda Uplay, soprattutto l'abbonamento di Uplay Plus. Devo dire la verità, mi sono anche un po' pentito. Allora, all'inizio sembrava davvero una grande cosa, ok, questo abbonamento di Uplay Plus. Però, ragazzi, è vero, Uplay Plus è un abbonamento che mi pare a 14,99 euro al mese, che comunque non è poco, eh, da dirlo. è un abbonamento che ci dà la possibilità di poter giocare a chi piace o a chi ha intenzione di farli tutti quei titoli di serie, tipo, io voglio giocare tutti gli Assassin's Creed, ok, abbonamento Uplay, li tengo tutti, voglio farmi Tom Clancy, Splinter Cell, li voglio fare tutti, ok. Allora, in quel caso è ovvio che io posso dire, cavolo, questo abbonamento è utile per quello che devo fare io, ma per le persone che invece come me in questo caso hanno intenzione invece di variare, no, titoli, quindi aspettarsi che ogni mese vengono raggiunti di titoli nuovi, Uplay Plus, ragazzi, non fa proprio al caso vostro, come non ha fatto al caso mio, eppure l'ha avuto per 4 mesi, ma se io poi vedo che a parte Ghost Recon Breakpoint non usciva un cavolo, ragazzi, mesi, mesi e mesi sempre gli stessi giochi e non vi sto dicendo palle ragazzi, andate a vedere, è chiaro che io non voglio andare a spendere 14 euro e 99 al mese per i titoli che già ho giocato, giochi nuovi che non mi escono, eh no ragazzi, che cavolo, e allora ho deciso di disdirlo, punto, basta, l'opinione mia, il mio pensiero, l'ho dovuto disdire, l'ho voluto disdire, e invece dico che mi sto trovando bene dall'altra parte, con l'Xbox, appunto, ripeto, Game Pass, perché fortunatamente ogni mese mi vengono dati dei giochi nuovi, ovviamente possono piacere come non possono piacere, ma questo come in tutti gli altri abbonamenti ragazzi, quindi, questo è per dirvi che attualmente, attualmente, bisogna tenere sotto controllo, bisogna avere un occhio di riguardo per l'app di Xbox Game Pass, per l'Xbox Game Pass e per l'Epic Game Store, ok? E niente ragazzi, questo volevo dirvi, spero di essere stato chiaro, ragazzi, voi qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti, io vi rispondo sempre, non vi preoccupate, e niente ragazzi, quindi da Infinity Games è tutto, noi ci vediamo sempre sul mio canale con tanti altri contenuti, tante news, e niente, a presto, ciao!